Ancora perdite idriche a Fiumicino. Il fenomeno che affligge la città e il suo interland ormai da diverso tempo questa volta ha interessato le condutture di Via Ancomarzio e Via delle Meduse all'Isola Sacra. In entrambi i casi la carreggiata è completamente invasa dall'acqua, causando pericoli per automobilisti e pedoni. Io ho chiamato diverse volte l'assistenza della CEA, la quale mi hanno risposto che addirittura hanno ricevuto ben 200 telefonate per quanto riguarda l'eclame di questo quasso. Allorché ho inviato anche un fax di aiuto al signor sindaco di Fiumicino e poi ho parlato anche con l'assessore dei lavori pubblici di Fiumicino. Purtroppo sono due mesi che siamo così e non abbiamo visto nulla. Non solo, ma qui abbiamo avuto ben due incidenti che si sono svolti, diciamo, tutte e due quasi nella stessa giornata con l'intervento dei relativi vigili urbani che hanno verbalizzato e hanno detto che il problema era proprio all'uscivolo delle auto che facevano acqua planning e quindi si sono scontrate addirittura qui al centro di questo angolo. Qui le segnalazioni sono state fatte un po' da tutti, tutti gli abitanti di questa zona e anche dietro i palazzi là dietro. Sappiamo che un geometra del comune è passato diverse volte a guardare, però è passato e se n'è andato, passato e se n'è andato, passato e se n'è andato. Essendo la strada scivolosa, qualcuno magari sarà pure caduto senz'altro. Io sapendo come è messo, lì c'è l'acqua, io passo largo, però non tutti, magari una fretta passa lì e cade. E anche qui, a poche centinaia di metri in via delle Meduse, lo scenario è sempre lo stesso. Una perdita d'acqua ha completamente allagato la strada che è divenuta una piscina e il rischio di acqua planning è altissimo. In merito abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici, Angelo Caroccia, che ha dichiarato Abbiamo sollecitato a Ceato 2 al ripristino di diverse perdite idriche in più parti del nostro territorio. Molti interventi sono stati effettuati, comprese le bonifiche di alcuni acquedotti. Rimangono in sospeso i lavori relativi alle perdite in via Maratea a Fregene, dove la ditta per scavare ha bisogno del nulla osta di un agronomo, visto che la rottura è in prossimità di un pino secolare, e via Ancomarzio, dove c'è una rottura che persiste da diversi giorni. Ho contattato personalmente l'azienda che mi ha risposto di essere intervenuta in due occasioni, l'ultima delle quali il 19 agosto, ma a causa dei veicoli parcheggiati non ha potuto completare la riparazione che verrà ultimata a stretto giro, ha concluso Caroccia.